Il concerto all'alba a Villa Fondi. Non so se avete seguito ieri sera lo spettacolo della School of Rock, ragazzi bravissimi del School of Rock appunto del Teatro delle Rose. Domani sera concluderemo con un grandissimo evento, uno spettacolo veramente straordinario, aspettiamo domani sera al Gli Stadio. Quindi io vi auguro un buon divertimento, una buona serata e a domani. Allora sindaco abbiamo con stasera un importante evento e poi domani sera nella linea e nella scia del tributo all'Aula del Gli Stadio. Una triade importante per San Michele. Buonasera a tutti. Festa di San Michele è la festa del nostro Santo Patrono, quindi una festa sentita da tutti, da due amministratori, da tutti i cittadini ma anche dai nostri ospiti che stanno visitando la nostra città, le bancarelle, le giosse per i bambini. E poi ecco questi spettacoli di qualità. Ieri abbiamo avuto i ragazzi, abbiamo dato la possibilità ai ragazzi che fanno scuola di teatro al Teatro delle Rose, di poter esibire, hanno cantato, hanno ballato, una bella manifestazione, diamo spazio ai giovani. Stasera c'è un comico, direi, elegante, di quella comicità a fine, di quella nobiliità che non è mai sguaiata, ma veramente poi lancia dei messaggi importanti. È un attore di teatro, nasce con Nino Taranto, con Pietro De Vico, con Luisa Conte, ha fatto veramente una grande gavetta, una grande storia teatrale, però ha anche tanta televisione. E quindi veramente un comico completo, è un attore completo. Quindi Gino Riliecio è una garanzia stasera per noi. Poi domani abbiamo gli stadio che rappresentano la storia della musica italiana, hanno cantato con Dalla, con De Gregori, con Vasco Rossi, quindi ci sarà veramente, ce n'è per tutti i gusti. E quindi buona festa di San Michele a tutti, ci vediamo poi domani sera. Adesso tossiamoci questo spettacolo. Beh, ricordiamo anche il premio Penisola Sorrentina che celebrerà domani sera. C'è qui Mario, sì, il risposto del patrono. E verrà anche premiato per i 40 anni di carriera, perciò lo facciamo stasera a Gino Riliecio in occasione di quella serata, il 26 ottobre, ricordiamoci, il premio Penisola Sorrentina e tanti altri eventi che vi presenteremo nelle prossime situazioni anche di tipo comunicativo. A questo punto c'è soltanto da far arrivare qui gli attori, inizia lo spettacolo. io e Napoli sempre, Gino Riliecio, accompagnato poi da Firenze a Calogero e Antonella Cascone. Buon divertimento a tutti, buona festa di San Michele. Buona serata. Grazie. 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 Grazie.